Hehehe sono Pazzacos e ben ritrovato in questo nuovissimo video Oggi siamo in un secondo video su come possono essere le skin con un certo effetto Per chi non l'ha visto il primo episodio mi raccomando andate a vederlo Così vedrete tutte le skin in modalità Galaxy Adesso siamo in modalità arcobaleno Come state vedendo proprio nella lobby Ovviamente ripeto nel primissimo video non è una mod, non è una modifica ai file di gioco E' soltanto una modifica cromatica fatta dal pc tramite un programma di registrazione In questo caso OBS Come potete vedere infatti posso annullare l'effetto tranquillamente Ma come al solito vi ricordo di supportare i Pazzacos all'interno del shop di Fortnite Per avere dei format sempre nuovi e tantissimi altri nuovissimi video Ma prima sono curioso di vedere nel replay Oddio, adesso i replay sono fantastici, guarda che allegria Andiamo a vedere, non so, questo replay qua Guardate il cavaliere nero che cambia il colore degli occhi E' fantastico, a parte che stanno sparando come non so cosa E' stupendo Oddio, guardate il visitatore che cambia Oddio, che sta succedendo? Cambia colore, ma è bellissimo Ma pure il piccone cambia colore, no, che figo E vabbè, tutto cambia colore a questo punto Anche il ninja dal pacchetto rosso, guardatelo che Che bellezza che cambia colore Che bellezza E' sparito, che succede? Adesso andiamo a vedere direttamente nell'armadietto Sarà un macello, ne son sicuro Mi piace che cambi anche l'icona tutta arcobaleno E' bellissima Sembra, sapete cosa sembrano? Le carte panini di Fortnite Quelle tutte laminate Abbiamo Aim Che cambia Ma Aim così è più figo Scusami Se lo rilasciavano con questa animazione sui pantaloni Tanta tanta roba Alla deriva ragazzi E' fantastico Forse è più bello così che da Galaxy E' fighissimo Giocare le partite in questo modo No, con anche i fulmini che cambiano colore Nooo, che belli Fatemi sapere ragazzi il prossimo effetto come lo volete Scrivetelo qua sotto nei commenti Con Calamity invece cambia soltanto il colore dei capelli Perché se no Perché dovrei inserire il colore viola in questo caso Guarda il Cavaliere Ultima Che cambia il colore dei occhi proprio come il Cavaliere Nero Se lo faccio rosso però Oh 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 No vabbè Se la skin era così si meritava 100% il livello 100 Perché Epic non fai skin così? Guardate che bello che è Il Cavaliere Nero l'abbiamo visto ed è fighissimo Il Cavaliere Ragno fa anche lui la sua bellissima figura Oh col verde Quanto era bello Catalizzatore L'abbiamo vista Ed funziona come alla deriva Inferno Guardate l'inferno che bello che è Guardate tutte le skin Tutte che cambiano colore Ma inferno è bellissimo Il visitatore Che cambia soltanto i led E ci sta Il re di fuoco Gelato Ibrido Ibrido dobbiamo farlo rosso Eh 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 Ma sapete che ci sta un botto così? Ci sta veramente un botto? Ma che bello che è No vabbè Jolly che cambia colore così su No che bello Che bello ragazzi Sì è proprio bello 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 Ecco là proprio quello che volevo Oh mega Oddio Omega Sì guarda che bello L'omega definitivo Questo è l'omega definitivo ragazzi Oblio Anche oblio E definitiva Così O con l'azzurro che bella Che è Ma è epic Falli stili in più Epic Falli con i colori Oh L'X Oddio l'X Aspettate faccia come l'altra volta No vabbè ragazzi Guardate Come l'altra volta con la galaxy Anche questa volta con l'Inx Stupenda Beh 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 dai Non è più inquietante come prima però Dai ci sta Venganza Ecco là Venganza anche lui con il suo bellissimo stile Valore E valore tutta Devo dire veramente che l'animazione arcobaleno Forse è anche migliore di quella di galaxy Bananita Bananita che cambia colore Solo sotto però Nell'appena ombra Però Anche Vabbè anche la lingua Dai cambia colore Anche gli occhietti Ci sta Lui l'abbiamo visto prima E' figo così Lui cambia colore dei pantaloni Sembra che proietta anche luce sul suo corpo il pantalone Signorina pomodora Come va Oddio Bubusette te Oddio Claccia rossa Claccia rossa Eccola là Eccola là Che bella che è No che figo che è Con anche le scarpe cambiano colore Calzamai Abbiamo un problemino alla faccia Perché lei ha tutte le guance arrossate Quindi Per questo prende anche Tutta la faccia Compagno di volo Oh che bello che era verde Era bellissimo Guardate che bello l'Iconic E l'Iconic definitiva anche questo No dai Spammate qua sotto nei commenti Iconic Arcobaleno ragazzi Perché E' fantastico Dai lo voglio in game E' bellissimo Super cappuccetto arcobaleno Assosa è stata fighissima Anche nello scorso video E anche qui Tanta tanta roba Manzo Oddio Quanti motociclista No che bello Sembrano sempre tanti diversi stili Ogni volta Ruggine rosso Ruggine rosso E' ruggine ragazzi E' ruggine imbattibile Con la sua felpa Ruggine imbattibile E' Fighissimo E che servono gli stili Quando per vedere tutti i colori Anche il robottone Guardate che bello L'ombra E ci sta No guardate il piccolo particolare Si vede a malapena ma Cambia il colore della visita e basta Nella skin Ma che bello No vabbè Gli occhi di Sanctum E' tutto normale Classico Solo gli occhi cambiano No che figo Perché ha gli occhi rossi ovviamente No che bello che No vabbè La zucca No dai Fai questo stile epic Fallo E' bellissimo E' buon Halloween Pomodoro E' diventato tutt'altro che pomodoro Anche lei cambia il colore dei occhi No che bello Alcafiamma Dai che tiene Super Saiyan Dai con il giallo Super Saiyan Super Saiyan Blue Oddio Oddio il pesce secco Ci sta un botto Con la skin della World Cup Ci sta un botto Anche VR Lei forse è un po' troppo E infine poi Sempre centro Oppure abbiamo il Fenicottero Mamma mia Fenicottero Andiamo a vederci qualche deltaplano E' il drago d'arcobaleno E' bellissimo E' questo Tanta tanta roba Oppure l'ombrellino arcobaleno Dove sta l'ombrellino L'ombrellino arcobaleno ragazzi Che dire pazzoidi Spero che questo video Sulle skin Arcobaleno Vi sia piaciuto Fatemi sapere Di cosa ne pensate Qual è il prossimo effetto Che volete vedere All'interno del video Come al solito pazzoidi Per supportare Tutti questi nuovi format E tantissimi altri video Soprattutto le stories Che il prossimo capitolo Uscirà Questo venerdì Ricordate di supportare Questo canale Che dire pazzoidi No come al solito Ci vediamo con dolcissimo E carnissimo Hehe